si salve allora vi faccio vedere tutti i passaggi per installare car tube l'applicazione per vedere youtube sullo stereo dell'auto senza bisogno di fare il root del telefono io ho in questo caso realme x50 pro con android 11 innanzitutto bisogna fare delle operazioni preliminari sul telefono vi faccio vedere qui impostazioni supplementari ed in questo caso non c'è l'opzione sviluppatore che serve per poter installare l'applicazione per entrare nel modalità sviluppatore innanzitutto bisogna andare in infotelefono qui cliccare su banda base e kernel poi qui fare una serie di tap e si apre la password che vado ad inserire sono entrato nella modalità sviluppatore riesce una notifica sotto ora se vado in impostazioni supplementari ecco qui vedete uscito opzioni sviluppatore che poi potete andare a togliere qui si fa tap diventa grigio e si toglie tutto poi non lo troverete più nel menu qui potete fare vedete molte operazioni vedete password backup desktop non usare la schermata di blocco però io consiglio di non muovere nulla se non siete molto avvezzi alla tecnologia questa è l'opzione che ci interessa il debug usb che bisogna andare ad attivare quando lo chiede ovviamente il il processo di installazione cioè al terzo passaggio vi faccio vedere ora dove scaricare car tube benedetto andate sulla pagina di google cercate car tube lo potete trovare vedete in questo articolo qui oppure potete andare direttamente sul sito che questo qui gift hub punto com slash croccio slash car qui troverete la versione alfa e la versione beta li trovate qui vedete dove cliccare su release io ho scaricato sia l'alfa che la beta l'alfa vedete la versione di di sei giorni fa la beta invece la versione di tre giorni fa quindi la più recente come me ci sono diversi file vedete per il mac linux e per windows qui trova tutte i file io ho scaricato avendo un windows scaricato questo qui beta general ho scaricato anche l'alfa sempre l'alfa general che sono circa 15.7 megabyte ovviamente il computer vi dirà che potrebbe esserci dei virus quando completi download voi basta cliccate su conserva e veri salvo ovviamente sul in questo caso sul desktop dovete andare a controllare qui delle impostazioni dove andate a scaricare i file eccoli qui questo è il beta e questo è l'alfa vado ad aprire beta general ecco qui mi si apre l'applicazione car tube mi dice praticamente che un'applicazione per vedere youtube con android auto se vado su next mi dice in questo caso di andare ad abilitare le opzioni sviluppatori ho fatto vedere prima cliccando ancora su next mi dice di collegare il telefono al computer tramite il cavo in dotazione quindi via usb e poi andare ad attivare il debug usb e poi ovviamente andare a dare l'autorizzazione cliccare ok una volta collegato il telefono con il cavo usb dovete mettere qui trasferimento file android auto ecco qui poi andate nel menu nelle impostazioni andate ovviamente cercarlo io con android 11 trova qui in potenza supplementari poi andata a cliccare opzione sviluppatore ed attivate il debug usb cliccate ok su computer vi si apre vedete vi dice che è stato attivato il telefono è stato trovato fate clic su next qui andate installare sia l'applicazione car tube per android auto sia il car tube controller c'è quell'iconcino che compare sotto che permette quindi di controllare car tube da android auto tipo spotify vado a fare install in questo caso mi da errore la versione beta quindi se non va la versione beta andate a installare la versione alfa quella meno recente fate gli stessi passaggi vedete già cercato installazione ed operazione completata ora questa è una versione che funziona soltanto quando siete con la macchina fermi vedete per sbloccare tutte le caratteristiche potete andare a sopportare il creatore dell'applicazione con una donazione se cliccate qui vi porta sul sito di paypal questa è la donazione potete scegliere 3 euro e 99 6 99 9 euro e 99 un altro importo e qui potete scegliere facoltativamente la motivazione della donazione car tube matrimonio corso di inglese e così via qui potete scegliere qui potete scegliere di impostare donazione mensile vuoi aggiungere la mia donazione anche i costi di elaborazione e così via potete donare sia con paypal che con carta di credito o di debito una volta effettuata l'installazione ritrovata l'applicazione qui car tube andiamo ad aprire qui si apre la pagina per sbloccare la versione pro dovete copiare il vostro id tramite questo pulsante fare la donazione e poi mandare il vostro id e il codice della transazione oppure la vostra mail a questa mail qui e la mail di queste cv z e verrà sbloccata praticamente la versione pro entro 48 ore se torniamo indietro vedete questa è l'applicazione qui andate e dovete inserire il vostro account google password email telefono come user e poi la password andando avanti oppure creare un account se non lo avete senza l'account l'applicazione non funziona quando gli si apre l'applicazione dovete ovviamente anche dare tutte le i permessi in particolare l'unico permesso importante è quello del microfono poi il resto potete anche non darle facoltativo comunque potete trovare tutti i permessi andando nella nell'applicazione impostazioni applicazioni e andate a settare tutti i vari permessi come sempre la posizione la rubrica e così via per i permessi basta tenere premuto sull'applicazione a cliccare su informazioni vedete qui trovate permessi e qui potete vedere andare vedete ora è un po di soltanto il microfono potete scegliere se dà autorizzazione solo mentre viene stata l'applicazione oppure chiedere ogni volta l'autorizzazione può rifiutare il permesso poi potete scegliere della memoria e accedere alla memoria del telefono solo ai file multimediale oppure rifiutare telefono qui vi chiede vedete di accedere alla rubrica consente o rifiuta e poi vedete qui c'è un pulsante rimuovere le autorizzazioni se l'app non viene utilizzata quindi se non viene utilizzata per alcuni mesi le autorizzazioni verranno rimosse in questo caso il microfono perché avete consentito tuttanto il microfono qui vedete cliccando sul pulsante potete entrare in tutte le autorizzazioni e qui vedete ancora più approfondito vedete potete scegliere se permettere alla car tube accesso completo alla rete visualizzazione connessione di rete e così via esecuzione all'avvio visualizzazione connessione wifi e così via possiamo poi andare a vedere sempre tenendo premuto delle informazioni possiamo vedere anche vedere il dettaglio dei dati possiamo disabilitare il wifi i dati della rete cellulare oppure usare i dati in background posso vedere l'utilizzo della memoria del 9.47 totali 850 tappi 490 quindi posso cancellarli e cancellare anche la cache vedete qui posso dire anche la versione che la 0.1 beta qui posso scegliere anche le notifiche succede se la notifica anche nel blocco a schermo o il banner oppure posso anche toglierle cliccando qui sulla spunta posso nascondere i dettagli delle notifiche sulla schermata di blocco e poi posso uscire anche il canale predefinito il sistema cassette notifiche baristate e così via poi qui ho il display fotocamera anteriore qui vedete posso uscire adattamento automatico mostrare la fotocamera anteriore oppure nascondere la fotocamera anteriore la schermata intera grazie a tutti grazie a tutti